Un trend in crescita è quello delle presenze turistiche sul territorio di Pisa. Nel 2023 si sono registrati 2 milioni di ingressi nella città della Torre Pendente, un incremento del 13% rispetto al 2022. A fare la differenza sono soprattutto gli stranieri in aumento del 28% rispetto agli italiani che arrivano ad un 9%. In leggera flessione la permanenza media totale che nel 2023 è stata di 2,3 notti rispetto alle 2,4 notti del 2022. I dati sono stati raccolti dall'Ufficio del Turismo del Comune di Pisa. Le presenze di turisti in strutture alberghiere o extraalberghiere superano anche quelle del 2019, anno pre-Covid. Gli appartamenti dei privati, affittati per un massimo di 30 giorni, sono una formula che piace al viaggiatore. Il 2023 ha segnato il dato più alto, più di 211.000 presenze, l'89% in più rispetto all'anno scorso. Bene anche il litorale, con un più 8% di presenze.